Questo video è parte di un video interattivo che abbiamo fatto in collaborazione con myhamon.com Se non hai visto la primissima parte in cui cuciniamo qualcosa con il jamon iberico spagnolo, clicca qui! Se l'hai già visto, contendete il video e buona ricetta! Per questa ricetta ci serve jamon serrano, patate, prezzemolo, aglio, mettiamo in una padella da forno olio e patate. Le mettiamo in un forno preriscaldato a 200 gradi e le lasciamo cucinare. Intanto mettiamo in una padella olio, aglio e prezzemolo. Abbondante! Lo lasciamo cucinare e lo versiamo in una scodella per farlo raffreddare. Quando le patate sono quasi cucinate, ci versiamo sopra il composto che abbiamo creato in padella. Ci mettiamo anche il delizioso prosciutto spagnolo e lo lasciamo cucinare un altro po'. Bebepegnos, il piatto è pronto! E non dimenticare di seguire su Facebook e sulla pagina web myhamon.com Se vuoi sapere di più, qui sotto c'è un documento che spiega perché è così buono il prosciutto spagnolo. Lascia un like se il video ti è piaciuto, condividilo con gli amici e iscriviti al canale per scoprire altre ricette e altre cose fighe sulla spagna. Hasta luego!